Adesso c'è un special guest questa sera e sono felice di fare questo grande duo insieme a questo grande artista e sicuramente un grande artista che voi conoscete e vorrei l'aiuto di Lenny Lombardi per presentarlo qui insieme a me Grazie Umberto, grazie. Allora, we're having a beautiful night of music and music has the power, the music has the power to move you and I don't think that music more powerful than Umberto Tocic's music can move us as much as he can. A beautiful concert so far and this is a special moment in this concert tonight ladies and gentlemen because I'm about to introduce you to a gentleman by the name of Vince Pananatti. Let me tell you a little story about Vince because Vince is now fighting to keep the music alive in his life. A short time ago Vince was diagnosed with cancer and Vince has found out that this form of cancer has been resistant to the conventional forms of treatment and he's without much hope. But there is hope that there is a drug that is available that has had good clinical results and he can and will take this drug but it's not covered by our current medical situation here in Ontario and needs to raise the funds to do that. So there's a fundraiser for him on July the 6th because he needs to raise $100,000 in order to help pay for this special drug. But he's a fighter. But he's a fighter you know we're dealt dealt cards and we must go on with our lives and he's a fighter and he's going to continue to fight and live his life. He's a father, he's a husband and a great entertainer. And when his story was told to me by his friends Dominic Campione and others I was very moved by that story. Because his dream has always been to sing with his idol Umberto Tozzi. And when I told Umberto this story when he arrived to Toronto Umberto was moved as a man, as a human being before his love and compassion for this man Vince Beninati and he said he would be honored to sing with Vince for you tonight. And he fulfilled Vince's dream of singing Vince's most favorite love song and I think your most favorite love song as well. Tia. So ladies and gentlemen Vince Beninati. Thank you so much. Tia. Hello Brookcks. Tia. The uncle D un uomo a un uomo che non afferro la cuore del letto quando io il mare o il treno davanti al tuo seno ti odi e ti odi e ti odi e la frafalla che un cuore sbagliando e la vita come il chiaro non si fa di amore di te me la frafella di amore che un cuore non arrezza di amore di rimaggio, il suo coraggio io ti odi e ti odi e che lo tengo, il morito di risalto che mi abbia lunga quello che è adicandata e già e non c'è niente e non ma non c'è ma tu fa tovano non c'è e non c'è niente ma non c'è niente ma non c'è niente ma non c'è niente sono un po' niente ma non c'è niente Sì, per un po' di là, non so che abbracciare la donna che stilo incantando. Sì, per un po' di là, prima di fare l'amore, resti la rabbia di pace e soltare sul lato cielo. Sì,�o v Doncs a te va, non so che abbracciare la donna che stiamo in una borsa. Sì, per un po' di là che he giocato il nostro predile e il nostropero è, non so questo che abbracciare la donna di un po' di là, non so che abbracciare la donna che stilo incantando. Un bambino che da sogna, sogna, si gira, fammi avraccere una donna che si ragazza mio giro. Ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Just a little correction. The fundraiser is on July 5th at Lizardin Banquet Hall. You can go to facebook.com slash Vince's Night of Hope and you can get all the information there. God bless everybody. I sang here 18 years ago on this stage. I sang the same song, Ti amo, at a karaoke competition. I won and it's an honor to be here with him back for the night. Thank you. 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 Grazie.